Gentili telespettatori, buona giornata. Leggo su un giornale fiancheggiatore della sinistra Meloni difende manganelli contro manifestanti. Meloni difende i manganelli, come se i manganelli fossero delle cose animate, dei cartoni animati. La Meloni difende i manganelli, non la polizia, i manganelli, la polizia sono diventati i manganelli. Capite figurativamente nell'immaginario della sinistra fiancheggiatrice? Il poliziotto diventa un manganello, cioè la figura del poliziotto si trasforma in un manganello che è lo strumento del potere per silenziare il dissenso. Avete visto? Guardate che i giornali fiancheggiatori della sinistra sono professionisti della manipolazione delle cose. Meloni difende manganelli contro manifestanti. Allora andiamo a sentire la Meloni che difende questi manganelli. Magari chiamiamoli poliziotti piuttosto che manganelli. Allora, dice la Meloni, non si può fare di tutta erba un fascio. Cosa ha detto? Che parola ha usato? Così Giorgia Meloni ha aperto il discorso su quello che è successo nelle piazze. il giornale fiancheggiatore di sinistra che sto leggendo dice la Meloni ha aperto il discorso sulle violenze di polizia registrate nelle scorse settimane. Quindi giornali fiancheggiatori della sinistra continuano a demonizzare la polizia. Ma io dico io, ma ce la fate? La polizia è un'istituzione prestigiosissima in Italia. La gente si fida più della polizia che dei politici, dei giornali e di tutto il resto messo insieme. Ma come fa la gente a votare a sinistra quando politica e giornali di sinistra trattano la polizia come se fossero dei violenti? Prima vengono attaccati, sputi, calci, tentano di sfondare i posti di blocco e poi è la polizia che fa le violenze. Ma attenzione, attenzione, adesso vediamo quello che dice la Meloni e poi facciamo una mia opinione non di parte, vi do una mia opinione. Quindi il giornalone fiancheggiatore parla di violenza della polizia. Pisa e Firenze. Dice così la Meloni, l'anno scorso abbiamo avuto 120 agenti feriti. Prima di esporre, e poi dice, la vera impunità c'è in Italia e ha fatto sì che ci fossero veri e propri professionisti del disordine pubblico. Gente che fa questo di mestiere. Insomma, il problema non è l'eventuale mancanza di sanzioni nei confronti delle forze dell'ordine che colpiscono una manifestante pacifica, ma il fatto che nei cortei ci siano persone che di mestiere creano disordine pubblico. Caro il mio giornalone fiancheggiatore, la Meloni ha detto una cosa assolutamente corretta, giusta, di buonsenso e reale. La Meloni ha fatto una fotografia delle realtà. Vi ricordate che venivano a fare i rave party in Italia perché? Perché c'era impunità. Quindi da tutta Europa venivano a fare i rave party in Italia. Da quando il governo Meloni ha introdotto anche il sequestro delle strutture audio costosissime, non ci sono più rave in Italia abusivi. Non vengono più dall'estero a fare i rave abusivi. Ma caspiterina, poverini, dicono quelli di sinistra. Vogliono solo ballare. Poverini, ballano. Ecco, mamma mia come state. Mamma mia. Ecco, torniamo alle manifestazioni. In Italia c'è impunità. Se voi fate delle manifestazioni come quelle in Italia, le fate in Germania o da altre parti, dopo le manganellate, quelle persone vengono arrestate e processate tutte per direttissima e le mettono in galera. Le portano a processo a centinaia. Perché in Italia questo non succede? Pertanto oggi in Italia abbiamo i professionisti del disordine pubblico che vengono dai centri sociali, dagli ambienti anarchici. Perché sono professionisti del disordine pubblico? Perché sono sempre liberi. Perché se fossero, al primo disordine che fanno, fossero arrestati, a quel punto non ci sarebbero più i professionisti del disordine pubblico perché sarebbero tutti in galera. Chiaro, no? In Italia ci sono perché sono liberi. Quando fanno i disordini pubblici fanno quello che gli pare e rimangono liberi. Chiaro questo, no? Bene. Quindi la Meloni dice quando si fanno le manifestazioni con i ragazzini della scuola con lo zainetto di 15 anni che dovrebbero stare a casa sotto la tutela dei genitori perché il ragazzino che mi va alla manifestazione a 15 anni, un minorenne che dovrebbe essere sotto la patria potestà del genitore. Allora c'è qualche problemuccio nella società. Però davanti a quei ragazzini con lo zainetto ci sono i professionisti del disordine che tentano, in testa ai cortei, tentano di sfondare i posti di blocco della polizia. Attaccano la polizia perché la vedono come un nemico. I centri sociali, gli anarchici, vedono la polizia come dei nemici. Quindi calci, sputi, spintoni tentano di sfondare i posti di blocco e partono le cariche della polizia. La Meloni poi dice, dice questo, solidarietà alle forze di polizia per queste campagne denigratorie che di tanto in tanto vengono fuori. Assolutamente d'accordo. Dice dal 7 ottobre ad oggi in Italia abbiamo avuto oltre mille manifestazioni a sostegno dalla Palestina. In Italia noi non abbiamo impedito le manifestazioni. Io vi ricordo che in Europa in molti stati le impediscono. In Italia, che dicono che siamo sotto un regime fascista, non ci sono manifestazioni impedite. Chissà come mai. E poi dice, invece in Francia perché il diritto di manifestare deve essere garantito indipendentemente dalla ragione per cui si manifesta. In Italia abbiamo un'ottima gestione dell'ordine pubblico. E poi dice, se ci sono stati errori fatti dalle forze dell'ordine, si verificano quelle responsabilità ed eventualmente si sanzionano. Ma non si può fare di tutta un'erba un fascio. Quindi, la Meloni dice, alla fine, se nella reazione delle polizie, dopo l'attacco dei professionisti del disordine, la polizia ha reagito e qualcuno di questi poliziotti, come si vede nelle immagini, ha avuto un eccesso di manganellamento, ci sono centinaia di video fatti da tante persone, queste persone, questi poliziotti che si sono già auto-identificati, cioè si sono auto-identificati. Se ci sarà qualcuno che la magistratura reputerà con un eccesso di forza, un eccesso di reazione, saranno sanzionati da quelle che sono le leggi italiane. A me sembra che il discorso della Meloni sia il discorso di una persona che ragiona bene, di buonsenso. In questo ragionamento non ho visto prese di posizioni ideologiche, ideologiche, non c'è nulla di ideologico. Quello che ha fatto la Meloni è semplicemente un discorso di basilare buonsenso. Ma il giornale fiancheggiatore parla di violenze della polizia, la Meloni che difende i manganelli, no? E la polizia sono diventati i manganelli. Vergogna! Arrivederci a tutti e grazie.